Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su HTB 8 XIII Est, frequenza 12149. È la classicissima d'agosto dedicata ai professionisti, un appuntamento internazionale con un albodoro di primissimo livello, un appuntamento irrinunciabile soprattutto per il pubblico, per i vacanzieri, per gli appassionati. Un saluto dalla Versilia per la 63esima edizione del Gran Premio di Camaiore, manifestazione nata nel 1949 che fino al 1967 è andata in scena con i dilettanti protagonisti. Poi dal 1966 la svolta per un albodoro che vede protagonisti i più grandi dell'era moderna. A Camaiore hanno vinto campioni del calibro di Eddy Merz che trionfò nel 1971. L'anno dopo un altro grandissimo del movimento, il gitano, lo zingaro, Roger Devlami che poi a seguire nel 1975 Francesco Moser nel 77 a fine carriera, cuore matto Franco Bitossi. Poi Giuseppe Saronni, doppietta per il campione Lombardo nel 1979 e poi nell'81. Quindi nell'83 il giovenissimo 21enne Moreno Argentin vinse a Camaiore e conquistò il titolo di campione italiano. Intanto siamo alla presentazione delle squadre con una delle più accreditate, la Androni Giocattoli del team manager Gianni Savio che schiera il campione italiano Pellizzotti che cercherà quest'oggi di onorare il tricolore tricolore che fu assegnato a Camaiore dopo quello del 1983 anche nel 90 con il successo di Giorgio Furlan. Da sottolineare poi i successi anche del 1998 del gladiatore Andrea Taffi che tra l'altro ha mantenuto un feeling speciale con questa manifestazione in quanto fa parte dell'entourage organizzativo. Poi successo del 2001 per Michele Bartoli, nel 2004 Paolo Bettini e quindi 2009 Vincenzo Nibali uno dei più forti corridori del panorama italiano a livello internazionale nel 2010 vittoria per lo sloveno Koren nel 2011 la firma del giovane Fabio Taborre dell'Acqua e Sapone, altra formazione che quest'oggi sicuramente darà battaglia. Ecco il campo dei partenti completo, è tornato un cast di partecipanti di primo livello, ci sono state due annate difficili a causa di un calendario intasato a livello internazionale, in questo momento si sta correndo negli Stati Uniti si sta correndo in Olanda e in Belgio con l'Eneco Tour, si è conclusa la scorsa settimana la vuelta a Burgos ma quest'anno fortunatamente il Gran Premio di Camaiore schiera, campioni importanti. Ne vediamo uno in questo momento salire sul palco, vale a dire Danilo Di Luca, iscrizione aperte proprio dall'Acqua e Sapone con Fabio Taborre che correrà con il numero uno sulle spalle, quindi troviamo la Liquigas Canoendel con Cristian Koren, numero 11 dello schieramento, vincitore come abbiamo sottolineato nel 2010 poi Androni Giocattoli, Venezuela, la formazione di Franco Pellizzotti, la Farnese Vini, Selle Italia la Colnago CSF Inox, la formazione diretta da Bruno e Roberto Reverberi mentre è quasi tutto pronto per il via della manifestazione pubblico delle grandi occasioni come sempre allo stadio comunale di Camaiore che stiamo lasciando con Moto1 in questo momento concludiamo con le squadre, la Columbia Col del Portes, formazione colombiana ma gestita dall'espertissimo Claudio Corti quindi la Utensil Nord Named, l'Itera Katiuscia che è praticamente la formazione continental della multinazionale del ciclismo Katiuscia, del grande progetto che ha portato alla ribalta in questi anni una delle formazioni più blasonate e che ha dato slancio nuovamente al movimento russo del ciclismo quindi il team Idea, altra formazione continental, come il team Astana abbiamo oggi al via anche l'altra continental, il team Astana 2 che è praticamente il vivaio dei giovani di questa altra potenza del ciclismo mondiale chiude le iscrizioni, l'amore vita, team Fanini che praticamente è la squadra di casa in quanto la sede è a Lucca, in provincia di Lucca e quindi Ivano Fanini oggi con i suoi corre nella propria provincia, stiamo lasciando lo stadio comunale di Camaiore c'è stato un colpo d'occhio davvero meraviglioso, è importante soprattutto per tutto il movimento avere tanti spettatori, avere tanti appassionati sul tracciato e questa è una caratteristica importante della gara versiliesa in quanto troveremo tanto pubblico sul lungomare quando andremo ad affrontare i due giri del circuito del velocissimo circuito intitolato a Fabio Casartelli prima di muovere verso Camaiore e iniziare l'anello con il Montepittolo che sarà ripetuto per ben 7 volte 199 sono i chilometri in programma intanto con la nostra moto itinerario turistico e guardate il colpo d'occhio si è fermato tutta la cittadina versiliese per assistere alla partenza di questa 63esima edizione una curiosità sempre che riguarda l'Albo d'Oro Giacinto Sant'Ambrogio vinse nel 1966 quando la gara si faceva per dilettanti e riuscì a trionfare anche nel 1974 quando la gara versiliese passò al professionismo intanto i giovanissimi dell'Unione Ciclistica Pian di Momnio come sempre stanno anticipando il gruppo stiamo muovendo verso il chilometro zero il gruppo non si fermerà e quindi ci sarà la partenza lanciata prima il tratto in linea il brevissimo tratto in linea attraverso Pietrasanta per poi andare sul mare fiumetto e quindi l'inizio del circuito velocissimo con due tornate innesto via Italica poi e Ponte di Sasso per tornare verso Camaiore dove inizierà il bello nella manifestazione con un circuito che è stato definito più volte mondiale perché davvero qui si potrebbe mettere tranquillamente in scena una rassegna iridata andiamo con il comitato organizzatore presieduto dal neo e giovanissimo sindaco Alessandro Del Dotto che è il presidente quindi il vice è Carlo Alberto Carrai Giovanni Fontanini è il responsabile operativo Franco Costantino è il direttore di corsa Andrea Negro è il vice direttore di corsa come Ercole e Mealli quindi Andrea Tafi e Bruno Bianchini curano le pubbliche relazioni come avevamo detto il campione l'ex campione il gladiatore ha mantenuto rapporti importanti con l'organizzazione ancora oggi sta lavorando all'interno di questa gara l'ufficio stampa è affidato a Roberto Sardelli per quanto riguarda l'addetto alla giuria antidoping Pierluigi Giannechini il medico di gara è Raffaele D'Alessandro questi sono gli uomini che lavorano a favore di questa manifestazione partenza lanciatissima con i ragazzi dell'amore vita nelle prime posizioni Storcius viene rilevato in questo momento dall'atleta della Colnago di Corrado il gran premio di Camaiore è da sempre un'occasione importante qui iniziano gli stage per quanto riguarda i giovani che si affacciano alla professionismo direttori sportivi e team manager delle squadre professionistiche da Camaiore possono dare la possibilità a giovani emergenti di provare nei professionisti e quindi è una vetrina importante anche per chi si affaccia alla professionismo intanto siamo a Lido di Camaiore stiamo attendendo il gruppo che ha fatto il giro da Pietrasanta che si è immesso in località Fiumetto sul bellissimo lungomare versiliese ci sono tre atleti che si sono leggermente avvantaggiati ma il gruppo è lì e per il momento non vuole dar spazio ai tre attaccanti ci sono premi importanti in ricordo di Fabio Casartelli a lui è intitolato il circuito sul lungomare ed ecco il gruppo in lunghissima fila indiana che passa davanti alla nostra telecamera quindi situazione che vede praticamente il plotone compatto perché i tre avevano un vantaggio minimo quando si sta andando verso il primo passaggio sotto il traguardo intermedio del circuito sul mare e adesso abbiamo atteso nuovamente i corridori e siamo all'ultima tornata del Memorial Fabio Casartelli con il giovane Ligure Pierpaolo De Negri grande protagonista delle stagioni dilettantistiche di qualche anno fa Pierpaolo De Negri quest'anno ha saputo vincere e quindi un'annata importante che conferma le qualità veloci di questo atleta che arriva dalla provincia di La Spezia vedete sta andando molto forte ma da dietro stanno rinvenendo altri concorrenti e infatti si volta De Negri e ha diminuito leggermente la velocità perché sta aspettando il contributo di altri atleti anche se cercherà di passare per primo sotto lo speciale traguardo posto proprio qui sul lungomare per prendere punti importanti ai fini della classifica del Memorial Casartelli sta per essere raggiunto De Negri ma rilancia proprio in questo momento l'azione arrivano gli atleti della Androni Giocattoli la formazione di Gianni Savio che ha esposto in fase di presentazione delle squadre uno striscione per commemorare la vittoria al campionato nazionale venezuelano ed ecco che De Negri è stato raggiunto in questo momento e davanti si va a formare un plotoncino forte di una ventina di unità avevamo accennato al pubblico e pubblico davvero copiosissimo anche sul circuito del mare gruppo compatto niente da fare per gli attaccanti avevano provato a sganciarsi una ventina di concorrenti ma ancora una volta c'è stato un grande controllo da parte delle squadre più titolate che stanno tenendo cucita la corsa in questa prima fase è concluso il circuito sul mare e si va adesso verso Camaiore per il primo passaggio si transiterà dal Montepitolo quindi la discesa a Montemagno Camaiore ed il primo passaggio sotto lo striscione d'arrivo e alla fine dopo numerosi tentativi se ne è andata via una fuga molto importante con protagonisti i seguenti atleti Paolo Ciavatta dell'Acqua Sapone poi Julien Antomarchi della formazione Team Type One poi Luca Dodi atleta parmense quindi Carlos Quintero Norena Francesco Di Paolo Costantin Climiancu Ilia Davidenco Andrea Di Corrado Cristian Koren vincitore qui a Camaiore nel 2010 poi Jonathan Monsalve Sergio Laganà Marco Canola giovane della formazione col nago CSF Inox quindi Leonardo Giordani Mattias Krizek che è uno stagista è il campione austriaco Under 23 e oggi si prova appunto con i professionisti Oscar Gatto vincitore di una tappa al Giro d'Italia lo scorso anno di una bellissima tappa al Giro d'Italia lo scorso anno quindi Fabio Piscopiello Vlaceskav Kuznetsov e poi Gairo Ermetti che è uno degli atleti italiani che da tanto tempo si dedica alla pista Gairo Ermetti che ha vinto appunto alcuni titoli sul tondino sono gli atleti del team Type 1 in questo momento che stanno facendo l'andatura nelle prime posizioni c'è anche Francesco Ginanni poi con la maglia della Farnese Vini Sella Italia abbiamo visto l'esperto Mazzanti atleta bolognese alla soglia dei 40 anni uno dei più riconosciuti nel gruppo proprio per la grande professionalità e stiamo andando verso il primo passaggio dal Pitoro e il gruppo è tornato compatto proprio grazie al grande lavoro che hanno fatto i ragazzi del team Type 1 della Farnese Vini Sella Italia ed appunto dell'Acqua e Sapone con un grande Francesco Ginanni in spolvero quest'oggi alla Gran Premio di Camaiore 63esima edizione la classicissima d'agosto adesso al passaggio c'è un atleta in solitudine si tratta di Cristian Salerno della Liquigas Canon del molto bravo in questo Giro d'Italia a supporto del capitano Ivan Basso oggi Cristian Salerno è ancora a lavoro per la squadra ed è transitato al primo passaggio sono stati percorsi fino a questo momento per l'esattezza 45 chilometri e 500 metri dei 199 in programma per questa 63esima edizione di una gara che da sempre è stata nel cuore degli sportivi e del pubblico grazie anche al periodo favorevole per il prossimo anno però a giusta ragione dobbiamo dire gli organizzatori stanno cercando qualcosa di nuovo perché in effetti negli ultimi due anni la gara è stata un po' stritolata se vogliamo usare questo termine dal calendario che propone tantissimi avvenimenti e si parla di un cambiamento nella prossima stagione addirittura la gara versiliese dovrebbe andare in scena nei primi mesi dell'anno si parla addirittura di febbraio in quell'arco dove sono concentrate tante manifestazioni importanti dopo l'apertura ad onoratico appunto si dovrebbe piazzare il gran premio di Camaiore prima delle strade bianche prima della Tireno Adriatico ma nel periodo che poi porta la Milano Sanremo e quindi questa nuova collocazione dovrebbe dare un nuovo slancio e nuova linfa questo appuntamento intanto sta per essere raggiunto Cristiano Salerno subito dietro c'è un quartetto con Aver Mejas Costantin Climancu Jonathan Monsalve ed il piemontese Fabio Felline che a breve dovrebbero rientrare su Salerno che in questo momento va via con un rapporto molto lungo non è convinto della propria azione in ogni caso anche lui ha preso punti importanti anche con la gran premio della montagna c'è una classifica speciale per ravvivare la corsa e soprattutto anche qui ci sono premi importanti ed è chiaro che i corridori sono animati dalla voglia di poter guadagnare punti preziosi ed appunto la classifica finale per quanto riguarda il gran premio della montagna rientrano in quattro sul corridore della liquiga Scenondale ed eccoli che sono passati Javier Mejas Costantin Climancu Jonathan Monsalve e Fabio Felline un quintetto al comando Radio Corsa ci informa che ci sono dei contrattaccati ma che il gruppo ancora una volta non sta dando grandissimo spazio a questi corridori e qui siamo sempre sul siamo dietro siamo dietro appunto con i quattro contrattaccanti con il numero due Carlos Alberto Betancur Gomez poi due atleti della Farnese Vini Selle Italia il laziale Alessandro Proni che vediamo inquadrato in questo momento non fortunatissimo questo ragazzo ha avuto diversi problemi fisici anche purtroppo familiari ma la grinta è quella di sempre e quindi Alessandro Proni oggi è qui a battagliare con lui il compagno di squadra Matteo Rabottini che ha vinto al recente Giro d'Italia la maglia della classifica a punti la maglia azzurra della speciale classifica messa in pali al Giro d'Italia ma soprattutto ha vinto nella sua regione a Pian dei Resinelli in Abruzzo quindi una stagione assolutamente positiva per questo corridore c'è anche Ilia Davidenco del team Astana 2 come abbiamo sottolineato ci sono le formazioni continental della Catiuscia e della Astana in questo momento si vanno a fondere i due gruppetti quindi situazione quando stiamo andando a Camaiore per il primo passaggio che vede al comando questi atleti Javier Mejas Lealla Costantin Climiancu Jonathan Monsalve Fabio Felline Cristiano Salerno Alessandro Proni Matteo Rabottini Ilia Davidenco e Carlos Alberto Betancur Gomez che è un pezzo pregiato del mercato è un atleta molto ricercato lo scorso anno triunfò sul bellissimo traguardo di San Luca a Bologna al giro dell'Emilia ed è un atleta appunto che ha diverse richieste per il momento però l'acqua e sapone lo ha ben blindato facciamo andare via gli attaccanti abbiamo visto al passaggio sotto lo striscione di arrivo il cartello che indicava ancora sei tornate alla conclusione un atleta di amore vita si è lanciato all'inseguimento al contrattacco dei Battistrada mentre il gruppo in questo momento non ci sembra intenzionato ad andare a ricucire la corsa corsa che si è rivoluzionata siamo al terzo passaggio al Gran Premio della Montagna del Monte Pitolo e c'è un atleta solo al comando si tratta di Rabottini che tra l'altro vogliamo ricordare anzi il pubblico più attento sicuramente ricorderà il papà vincitore di una Tireno Adriatico e Rabottini è da solo è un atleta che non ha paura Matteo di stare all'avvento il gruppo si era ricompattato nella precedente tornata nella quale noi siamo rimasti fermi adesso Rabottini lancia l'offensiva in solitudine passano tutti i componenti del gruppo che si è ridotto ci sono stati diversi ritiri il ritmo è stato davvero molto buono fino a questo momento media oraria superiore ai 40 ci sono stati diversi abbandoni ma i migliori molti dei migliori sono tutti in gara come avete visto c'è un gruppo forte di una sessantina di unità mentre è mancabile la presenza di Mario Cipollini che anche quest'oggi si sta allenando sulle sue strade una grande passione quella di Mario per la bicicletta anche dopo il ritiro questi atleti hanno un ritardo dalla testa della corsa di un primo e 50 secondi sarà difficile per loro rientrare sotto abbiamo visto anche Elia Favilli in questo gruppetto tra poco riprenderemo con la nostra a moto che si trova nella zona del traguardo moto 1 mentre abbiamo la telecamera fissa qui al passaggio dal Monte Pitolo dove stanno transitando ancora concorrenti che praticamente sono tagliati fuori però dalla corsa gruppo di testa dove viaggiano tutti i migliori come abbiamo detto all'inseguimento di Rabottini che troviamo in questo momento nella discesa che ci porta verso Montemagno Rabottini ha guadagnato ha guadagnato tanto Matteo Rabottini vedete dietro ancora non si sono decisi a dare una vera e propria caccia alla battistrada e stanno facendo buona guardia i compagni di squadra del corridore abruzzese che vanno a tamponare nelle prime posizioni sarà dura rimanere allo scoperto per tanti chilometri per Matteo Rabottini ma sicuramente è un gioco questo imposto dalla miraglia per poter far rifiatare i compagni di squadra quindi Rabottini in questo momento è un punto di riferimento per coloro che della squadra della Farnese Vini vorranno fare la gara nel finale si sta impegnando però al massimo vedete sbuffa sta facendo un ritmo molto interessante è un atleta che aveva già mostrato doti importanti nel mondo dilettantistico dove aveva triunfato anche in un campionato italiano Under 23 quindi il passaggio al professionismo che non è stato assolutamente semplice come succede a tanti ragazzi quando fanno il salto nel mondo superiore Rabottini però ha saputo ambientarsi e quest'anno ha dato importanti segnali nuovamente delle sue doti vincendo un'importante tappa al Giro d'Italia siamo al passaggio sotto il traguardo Rabottini ha un vantaggio quantificabile in un primo e 35 secondi nei confronti del Plotone dietro si stanno un po' muovendo Rabottini può contare su numerosi compagni di squadra che stanno cercando di stoppare appunto il tentativo del gruppo di ridurre il gap ma è chiaro che adesso inizierà la corsa vera mancano ancora quattro tornate alla conclusione praticamente sono stati percorsi per l'esattezza 127 km ce ne sono ancora tanti alla conclusione e adesso i saluti e gli applausi vagno chiaramente alla presidente onorario della FederCiclismo che è arrivato in compagnia del tecnico della nazionale vale a dire Paolo Bettini una corsa questa che è stata sempre molto importante per Alfredo Martini quando si disputava in giugno il Gran Premio di Camaiore faceva parte di quelle premondiali che poi facevano costruire la nazionale al mitico CT e chiaramente quest'oggi c'è anche Paolo Bettini perché il Gran Premio di Camaiore essendo ad agosto rimane sempre premondiale anche da quando i mondiali sono stati spostati a settembre mancano per l'esattezza 45 giorni alla rassegna iridata di Maastricht e quindi la gara di Camaiore rientra negli eventi da seguire per quanto riguarda il commissario tecnico Paolo Bettini fra 40 giorni a Maastricht ci sarà anche un altro evento molto molto importante perché verranno presentati i campionati italiani di Firenze 2013 quindi rassegna di Maastricht da non perdere per quanto riguarda la presentazione proprio di questi mondiali che finalmente si disputeranno in Toscana abbiamo visto il parco all'interno della città di Camaiore con una bellissima statua dedicata anche al Papa Buono Giovanni 23esimo e siamo di nuovo sul Battistrada cadenza di pedalata leggermente ridotta per Matteo Rabottini eccolo qua doppia telecamera anche sul traguardo e vedete che adesso è in leggera difficoltà e soprattutto dietro la Androni Giocattoli e l'acqua e sapone stanno cominciando a far sul serio gruppo che transita sotto il traguardo in lunghissima fila indiana a questo punto diventa difficile per Matteo Rabottini che comunque ha fatto una grandissima prova dimostrato di avere una condizione importante si va verso un periodo che ci porta appunto verso i campionati del mondo ci sono le classicissime di Ferragosto c'è il trittico Lombardo c'è un settembre importante con la Vuelta che inizierà a fine mese e con l'Italia che proporrà appunto in settembre manifestazioni di grandissimo spessore e qui ci si va a guadagnare la maglia azzurra e quindi Matteo Rabottini oggi ha dato un segnale importante al commissario tecnico che sta seguendo la manifestazione si entra nel finale della gara a 63esima edizione del Gran Premio di Camaiore due tornate alla conclusione è stato riassorbito Matteo Rabottini voto però molto positivo alla prova del corridore abruzzese tanti concorrenti ancora in gara nonostante il grandissimo ritmo ritmo subito dopo la partenza veloce poi anche i primi giri sul pitolo sono stati affrontati con grande grinta dai corridori quindi la solo di Matteo Rabottini che ha tenuto alta la media e adesso in gara ci sono una sessantina di atleti sorride il commissario tecnico Paolo Bettini in compagnia dell'amico e compagno di mille avventure soprattutto nel mondo dilettantistico Gabriele Balducci quando i due promettenti giovani all'epoca correvano nella Grassi Mapei eccoci su questi atleti che si sono sganciati con il numero sessantuno in ultima posizione Schalpaut Gomez quindi gli atleti della Androni Sella Italia con il 40 Alessandro Proni bravo molto bravo quest'oggi il corridore laziale protagonista sin dalle prime battute è di nuovo allo scoperto quando si entra nella fase più importante della gara ma vediamo che i cinque attaccanti hanno un vantaggio davvero minimo nei confronti della gruppo guidato ancora una volta dall'acqua e sapone che ha pezzi importanti in squadra con il numero 10 è partito il vincitore del giro di qualche anno fa il vincitore del giro 2000 Garzelli poi in squadra ci sono anche Masciarelli quindi Di Luca attivissimo in questa fase Fabio Tabor che ha vinto lo scorso anno e quindi un Carlos Betancourt che oggi si è messo a disposizione della squadra sta controllando molto bene nelle prime posizioni anche il campione italiano Franco Pellizzotti in prima linea Carlos Betancourt che adesso viene rilevato da Danilo Di Luca grande grinta del corridore avruzzese è rientrato dopo un periodo molto difficile tutti sanno della positività di Di Luca al Giro d'Italia di due anni or sono però Di Luca ha scontato la sua pena ognuno è giusto che abbia la sua opinione ma Di Luca è tornato ed è giusto avere rispetto per questo atleta che nella vita ha commesso un errore ma per questo non possiamo appunto crocifiggere coloro che ne hanno commessi ma che vogliono tornare a grandi livelli soprattutto che vogliono dimostrare di saper far ciclismo nel modo giusto eccoci di nuovo sugli attaccanti di spalle abbiamo visto Bazzana del team Type 1 davanti c'è il corridore della colonna Cold Air Portes child out e a fare l'andatura con il numero 29 Emanuele Sella che sta facendo un grandissimo lavoro quest'oggi pubblico come abbiamo detto all'altezza della manifestazione come all'altezza di questa edizione del Gran Premio di Camaiore sono stati partecipanti abbiamo già sottolineato del cambio di rotta mentre Sella è transitato per il primo al Gran Premio della montagna ma vedete Di Luca e Pelizzotti nelle prime posizioni che stanno tornando sul corridore Vicentino e adesso a giocarsi il Gran Premio di Camaiore sono rimasti una ventina di atleti c'è stata un'altra selezione importante per questi concorrenti sarà difficile poter tornare sotto staremo a vedere intanto abbiamo la mobile che sta seguendo è davanti e la fissa che rimane qui sul Monte Pitolo dicevamo di questo progetto progetto coordinato dal comitato organizzatore preceduto dal neo giovane sindaco Alessandro Del Dotto si vuole spostare la manifestazione a febbraio ci si vuole affiancare anche al colosso organizzativo italiano vale a dire RCS quindi progetti importanti anche per mettere in piedi altre manifestazioni si parla addirittura di dare spazio anche alla mountain bike sta di fatto che molto probabilmente ci sono tantissime possibilità che la corsa versiliese il prossimo anno vada in scena nel mese di febbraio e adesso si entra nel finale sempre con sella in prima posizione ecco che arrivano gli atleti dell'acqua e sapone con Masciarelli poi De Negri che va a ricucire Pellizzotti a centro gruppo e via via tutti gli altri che stanno transitando proprio a Montemagno qui inizia la picchiata verso Camaiore una discesa tecnica con una strada abbastanza ampia e bella soprattutto il tratto conclusivo gli ultimi tre chilometri che portano al traguardo si fanno a velocità sostenutissima il pubblico ormai si è già disposto al traguardo quando gli atleti transiteranno sotto lo striscione di arrivo suonerà la campana che ci annuncia l'ultima tornata ed ecco il gruppo che sta arrivando ci sono ancora alcuni tentativi i giovani del team idea squadra costruita da Bordonali che schiara tutti i ragazzi che sono arrivati al professionismo da poco stanno cercando di animare questo ultimo giro e questo è un segnale buono per loro perché essere qui davanti in una corsa difficile e tecnica come il Gran Premio di Camaiore non è cosa da poco bene anche i ragazzi di Ivano Fanini con Dabroschi che abbiamo visto più volte all'attacco dietro al corridore del team Amore Vita Fanini abbiamo Duarte in questo gruppo c'è anche il campione italiano poi con il 40 abbiamo visto Proni con il numero 34 Elia Favilli che ce l'ha fatta a rientrare fa parte del gruppetto di testa anche Ilia Zakarin che è stato grandissimo protagonista al giro bio dove è arrivato in maglia rosa fino sul Gavia dove ha perduto il primato a favore dell'incredibile straordinario americano Dombroschi e Ilia Zakarin però si dimostra ancora una volta corridore di talento in quanto oggi a duellare nel finale con i professionisti quindi un grande Zakarin atleta sicuramente promettente segniamo sul taccuino questo nome perché questo giovane russo può fare cose egregie Astana 2 con Gorbunov bene anche i ragazzi della formazione diretta da Martinello abbiamo visto al via della gara anche Matteo Signarino che fa parte dello staff di Astana e soprattutto ha dato un supporto di eleganza vestendo con la linea aeronautica militare i giovani atleti dell'Astana 2 e soprattutto del team di Alexander Vinokurov che ha vinto per la sua nazionale per la gioia del suo paese la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra quindi per quanto riguarda Astana e per quanto riguarda soprattutto il paese Kazako un risultato importante che darà nuovo slancio al ciclismo e soprattutto è una multinazionale è una potenza di questo sport e quindi è importante sapere che Astana proseguirà nei prossimi anni con l'Italia che sicuramente ha una componente importante all'interno di questa formazione non solo per l'eleganza per come vestono al di fuori delle gare questi ragazzi ma perché il prossimo anno arriverà ad Astana niente meno che Vincenzo Nibali che ha firmato da poco il contratto come ha fatto del resto il giovane e promettente velocista velonese Andrea Guardini anche lui ha firmato da pochi giorni per il team Kazako Carlos Alberto Betancur nelle prime posizioni poi con il 91 il Ligure Luca Barla del team Idea e il gruppo adesso dei migliori è composto da 25 concorrenti Cartolina Dastiava si va ad affrontare per l'ultima volta la salita di Montepitolo con Pellizzotti nelle prime posizioni a fare un ritmo importante c'è adesso ancora Emanuele Sella poi Danilo Di Luca quindi abbiamo visto nelle prime posizioni anche Chaves Davide Mucelli del team Idea vecchia conoscenza del ciclismo toscano lo scorso anno uno dei più bravi a livello nazionale nei dilettanti Elite Under 23 di spalle con il 41 c'è anche Pozzo Vivo Pozzo Vivo che quest'anno ha vinto una tappa al Giro d'Italia e che ha concluso nei primi 10 alla Corsa Rosa e la selezione è avvenuta naturale e i migliori sono lì davanti si sono avvantaggiati due concorrenti qui siamo su Pozzo Vivo Davide Mucelli Sella che adesso è un po' in difficoltà perché ha fatto un grandissimo lavoro per i compagni di squadra poi c'è l'atleta del team Type 1 che dovrebbe essere Jure Kosian e davanti ci sono Cerneschi del team Catiuscia Itera e poi Franco Pellizzotti ci dovrebbe essere anche Danilo Di Luca mentre noi adesso per motivi di intasamento la giuria ci ha detto giustamente di stare qui e noi rimaniamo in questa posizione mentre in questo momento Kosian del team Type 1 sta soffrendo più del dovuto e si stacca rimaniamo su Davide Muccelli e su Danilo Di Luca anche per Di Luca si sta un po' spengendo la luce ma la grinta del corridore abruzzese tutti la conosciamo cercherà di far di tutto per rientrare salita che in questo tratto è leggermente più morbida e si può anche respirare si fa per dire perché davanti stanno facendo un ritmo indiavolato bene Muccelli bene Davide Muccelli questo oggi segnali importanti da parte del corridore Livornese che sta combattendo con i migliori a questa 63esima edizione del Gran Premio di Camaiore è a tutta vedete rimane incollato in questo momento alla ruota di Danilo Di Luca non riesce ad andare a dare il cambio sarebbe importante in questo frangente per Di Luca avere un cambio ma vedete Muccelli sta dando tutto sta facendo molta fatica a rimanere incollato al corridore abruzzese mentre stanno prendendo vantaggio davanti 150 metri si dividono il gruppetto di testa ai due corridori che vi ho appena menzionato Danilo Di Luca e Davide Muccelli non possiamo passare in questo tratto siamo costretti a rimanere dietro appena avremo spazio cercheremo di tornare davanti dove c'è sicuramente Franco Pellizzotti e dove dovrebbe esserci anche Domenico Pozzovivo saremo più precisi ecco che abbiamo l'opportunità di passare sembravano in grado di rientrare Muccelli e Di Luca ma stanno perdendo a vista d'occhio in questo tratto e qui siamo su Sella sì ecco Sella in ultima posizione davanti a Sella c'è Domenico Pozzovivo poi Franco Pellizzotti eccolo là in maglia di campione italiano poi di spalle con il numero 82 Sergei Cerneschi del team Katiuscia avevamo parlato di Zakarin ma evidentemente la squadra 2 la squadra 2 russa ha numerosi atleti importanti che sanno già far bene nei professionisti anche perché fanno un calendario partecipando a molte gare con i prof è un team continental comunque di grandissima qualità quello della Katiuscia Itera poi Pellizzotti che sta guidando in seconda posizione in prima posizione c'è Pozzovivo in seconda Pellizzotti poi in terza ruota il colombiano della Columbia Col del Portes vale a dire Rubio Ciavez che ha vinto domenica scorsa l'ultima tappa della Vuelta Burgos è una giovanissima promessa di questa squadra gestita con grande professionalità e sapienza dal bresciano Claudio Corti grande campione del passato campione italiano secondo al campionato del mondo 77 a San Cristobal in Venezuela fra i dilettanti fu un'annata importante perché Moser vinse nei prof e Corti vinse nei professionisti Corti ha avuto una grandissima carriera anche nei professionisti e soprattutto sta facendo molto bene anche come team manager e quest'oggi lancia Juan Esteban Chavez che parteciperà a Maastricht ai campionati del mondo non con i professionisti ma con gli under 23 in quanto è classe 1990 e qui si riapre la solita diatriba sul fatto che certi atleti che corrono con i professionisti non dovrebbero partecipare alla rassegna under 23 però questo è quanto e si va avanti con questo regolamento intanto siamo su Di Luca Koscian e poi su Davide Mucelli che sono all'immediato in seguimento stanno guadagnando qualcosina noi li dobbiamo lasciare perché quando stiamo per arrivare a Montemagno ci riportiamo sul quintetto con Sella Pozzovivo Pellizzotti Cerneschi e Chavez che hanno trovato un ottimo accordo adesso il corridore russo che con un lunghissimo rapporto si porta in prima posizione vedete controlla Pellizzotti perché Di Luca se dovesse rientrare sarebbe un brutto cliente in un arrivo ristretto a ranghi ristretti e quindi c'è tutta l'intenzione di non far rientrare il corridore abruzzese ci siamo avvantaggiati e siamo al traguardo mille metri alla conclusione siamo alla penultima curva quella che poi metterà sul viale Oberdan Sella che tira il compagno di squadra Pellizzotti in seconda posizione Ciavez poi Cerneschi a chiudere Pozzovivo ultimi 500 metri della 63esima edizione del Gran Premio di Camaiore ultimo sforzo per Sella che sta lanciando molto bene il proprio capitano non ce l'hanno fatta Di Luca e Muccelli a rientrare si sta ricompattando questo gruppetto ma sul rettifilo conclusivo è già lanciata la volata ottimo lavoro di Sella è partito però un po' lungo Pellizzotti sta uscendo in questo momento Ciavez che è la meglio su Cerneschi bellissima volata Pellizzotti è partito forse un po' troppo presto e ha aperto il varco a Ciavez e Cerneschi gomito a gomito per questi due atleti e alla fine ha avuto la meglio il corridore colombiano una settimana da incorniciare per questo atleta mentre Di Luca ha vinto la volata per il sesto posto dietro Koscian Ribakov Rubiano decimo posto per un ottimo Mucelli mentre la regia ci sta per riproporre i rallenti di questa avvincente volata ha sbagliato forse un po' i calcoli il corridore Veneto il corridore Trevigiano nativo del Friuli ma ormai Veneto da adozione a tutti gli effetti vedete qui è già per essere superato all'interno da Ciavez rimonta Cerneschi dall'altra parte ha un gomito a gomito fra questi due corridori e il colombiano alla meglio podio internazionale primo un colombiano Ciavez secondo un russo Cerneschi terzo il campione italiano Pelizzotti questo l'esito del Gran Premio di Camaiore con Ciavez festeggiato dal team manager Claudio Corti che sta andando a prendere l'applauso del pubblico per la premiazione finale Claudio Corti è molto contento perché sa che cosa vuol dire vincere a Camaiore lo ha fatto lui da professionista oggi una grande soddisfazione con Ciavez le vittorie le vittorie sono sempre belle in modo particolare le corse estive dove sono dure dove c'è tanta selezione Camaiore è una corsa che è un po' nel mio cuore perché l'avevo vinta anch'io e comunque è una gara dove il pubblico i tifosi assiepati sul percorso rendono ancora più stimolante la competizione per i ragazzi sono felicissimo di questa vittoria di questo ragazzo prima di tutto perché è molto giovane e già sta dimostrando grosse grosse qualità ha vinto domenica scorsa l'ultima etapa della Vuelta a Burgos dove c'erano corridori forti con un arrivo in salita di 10 km e ripetersi oggi con corridori forti come Pellizzotti e altri che comunque ha battuto anche a Burgos perché Pellizzotti era anche a Burgos mi fa tanto piacere Franco Pellizzotti oggi più che mai ha dimostrato quanto ama questo sport eri molto abbattuto dopo l'arrivo Franco ma sai ci credevo i ragazzi i miei compagni hanno lavorato tantissimo ci credevano anche loro e mi sarebbe piaciuto veramente tanto vincere quest'oggi con questa maglia quindi se la voglia di vincere è tanta quindi la delusione ci sta però dai l'importante è essere davanti la condizione c'è e arriverà hai corso da protagonista ah si bisognava correre così non posso nascondermi se si vuole ottenere il risultato pieno bisogna esporsi in prima persona e niente faccio ancora i complimenti ai miei compagni perché oggi sono stati veramente grandi condizione ottima si buona dai adesso sta crescendo da qua a fine stagione spero di ottenere ancora ancora di buoni piazzamenti e magari qualche successo insomma Chavez sei molto contento molto contento si sto molto felice voglio ringraziare a Claudio per fare questa squadra tan bonita tan importante a Colombia che sta pendente di noi è stata una etapa molto larga abbastanza forte ma al finale il sprint si è e niente sto molto contento hai battuto dei corridori importanti si bastanti e e e e e e si muestra che non solo i colombiani ganano in la subida sino anche al sprint e adesso poi facciamo queste carriere in Lombardia Agostoni e e e e le tre carriere e poi facciamo il giro di Lombardia Padania il campionato mondiale Alessandro Del Dotto come è andata la prima da sindaco al Gran Premio di Camaiore una grandissima emozione sul piano personale ma anche tante bellissime emozioni anche sul piano delle prestazioni dell'andamento della manifestazione sportiva che è stata davvero eccezionale tanta partecipazione popolare questo è da sottolineare Sì si è riconfermato un grande risultato probabilmente ha cresciuto da quello che abbiamo potuto vedere anche lungo le strade come partecipazione appunto dalla parte della gente non solo della gente del luogo ma anche soprattutto la parte dei turisti che in questo momento popolano la nostra a Bersilia Aspetto tecnico con una partecipazione importante come merita questa manifestazione Sì quello senz'altro ovviamente si tratta di professionisti di grandissimo livello che sono stati coinvolti in questa manifestazione ovviamente l'ambizione di questa amministrazione è di regalare per il 2013 una nuova impostazione del Gran Premio di Camaiore su cui stiamo già lavorando con l'attuale organizzazione e abbiamo già fatto richiesta appunto per spostare la data e farne un evento di primo piano sul piano nazionale e internazionale Alfredo Martini una grande gara soprattutto tanto pubblico e questo è importante per il movimento Sì il pubblico è testimonia poi l'importanza di una corsa però i corridori hanno fatto onore alla corsa medesima perché sono state cinque ore sotto il caldo un caldo terribile e questi hanno sempre combattuto fino dalle prime pedalate che sono state fughe fughe poi neutralizzate altre fughe fino a che sono arrivati in cinque all'arrivo e questa volata attaccata da lontano da Perizzotti forse ha favorito sia il colombiano che il russo però a questi va rilevato grande onore perché sono sempre stati nel vivo della corsa certamente se aveva vinto il tricolore forse il pubblico sarebbe stato un po' più contento ma in ogni modo Perizzotti ha fatto onore alla corsa medesima facendo la protagonista per tutta la gara passione passione tecnica team allenamento gare tutto quello che gira intorno al ciclismo di passione spett Un canale di solo ciclismo non c'era. Bike Show l'ha acceso 24 ore su 24. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo.